che sta facendo vedere le cose migliori, ora palla che scivola in area De Zerbi, finta il cross al centro, poi Birindelli Trotta va a cercare il gol, gol del Napoli, arriva ed esplode lo stadio San Paolo, finisce l'imbattibilità di Buffon partita di nuovo in parità sull'1-1 quando sono passati 27 minuti della ripresa, è esploso letteralmente lo stadio, un gol davvero storico questo dovrebbe essere stato Bogliacino, ecco infatti sì, gran gol, era difficile tenere il pallone basso De Zerbi, l'entrata di De Zerbi ha dato davvero in là a questa azione che ha portato al pareggio del Napoli ci voleva, la squadra si ha reagito bene dopo il gol di Del Piero ma l'entrata di De Zerbi